e bentornati all'altra graffa la e dai eh oggi ti faccio vedere come ho disegnato questa bottiglietta con questi doodles se ti piace il risultato lascia un mi piace e iscriviti al canale se questo video arriva a mille like facciamo un nuovo quadro con i doodles e a do di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' arrivato il momento di aggiungere qualche faccina e qualche linea nera per completare tutto il lavoro. Dai, yeah! Ebbene ragazzi per questo video è tutto, vi do appuntamento alla prossima settimana con un altro video, mi raccomando supporta l'Arte Graffa Lab, lascia il tuo like, iscriviti al canale e bla bla bla. Ciao! E ricorda che tutto questo è Arte Graffa.